Musica Paolo Ferrero la seconda edizione del tuo libro il che significa che comunque ha interessato abbastanza il pubblico Il problema del debito non c'entra nulla con la spesa sociale, con le pensioni, la sanità, l'istruzione Il problema del debito c'entra col fatto che noi regaliamo barche di quattrine agli speculatori ed è questa la cosa che va bloccato Quindi mi pare un libro che funziona perché è un libro che aiuta a capire nello stesso tempo che dà un'ipotesi politica su cui uscire da questo casino Oggi ci sarà Pippo Civati qui con te, c'è il senatore Campanella del Movimento 5 Stelle La rifondazione potrebbe anche da fuori dal Parlamento candidarsi come polo aggregatore per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica Soprattutto visto che l'attuale Presidente del Consiglio fa le stesse battute di Berlusconi Ma adesso questa la vedo dura diciamo Io mi pongo un obiettivo diverso e cioè che riusciamo tra rifondazione, l'altra Europa con Tsipras In particolare l'assemblea che ci sarà sabato e domenica dell'altra Europa a Bologna Ad avanzare una proposta unitaria forte di costruzione di una sinistra E rivolta a tutti Da Pippo Civati ai Movimenti ai Notav a Sel A tutta la galassia della sinistra fuori dal PD perché questo a me sembra il punto Allora questo è il nodo vero Mi trovo qui perché il tema interessante e le persone pure Io sono convinto che noi si possa riuscire a combattere seriamente il renzismo imperante in questo momento Solo se si mette in campo un'ampia alleanza che comprenda tutti i soggetti che hanno capito che il neoliberismo è il problema Delle giovani generazioni ma anche di quelle meno giovani è piuttosto danneggiata da questo stato di cosa Oramai da una trentina d'anni di questo tipo di politica Quanti fuoriusciti dal 5 Stelle potrebbero avvicinarsi alle posizioni più radicali del PD E alla sinistra radicale che è fuori dal Parlamento Quanto crede che sia possibile un'alleanza del genere? Il problema è che questa radicalità è un argomento utilizzato dalle controparti Per far vedere, mostrare in questa sinistra qualcosa di irrazionale, di irragionevole Invece potremmo parlare di cittadini consapevoli di qual è la situazione e del motivo per cui Oggi mio figlio ha così tante, ha prospettive tanto peggiori rispetto a quelle che avevo io alla sua età Civati, cosa ci fa in mezzo ai comunisti? Io non ho nessun problema a confrontarmi con la sinistra in tutte le sue forme Anche perché noi stiamo celebrando il patto del Nazareno sulla Costituzione Sulla riforma della Costituzione per cui per riequilibrare mi sembra giusto essere qui A discutere di debito pubblico, soprattutto della visione di Ferrero In generale di una visione più laica rispetto a questo Moloch che viene usato spesso contro la democrazia E' una riflessione che tiene insieme questo gennaio che noi viviamo in questo modo un po' sgangherato Ma che altri vivono con le elezioni greche, con una riflessione a livello europeo non banale Occasioni del genere dove è presente lei, è presente Ferrero, è presente un senatore dei 5 Stelle Possono rappresentare manovre generali d'inizio per quanto riguarda il Presidente della Repubblica? Ma sul Presidente della Repubblica purtroppo molti di quelli che lei ha citato o non sono in Parlamento Hanno numeri piccoli insomma Però magari fuoriusciti come quello che è qui stasera Sì però bisogna arrivare a 505 diciamo per cui non è proprio semplicissimo Poi non partecipo al toto Presidenti che è già ricchissimo Lo stesso Renzi ne avrà 42 di candidati in questo momento da far girare La cosa importante è che a me piacerebbe ricostruire una sinistra di governo In questo paese io vedo un grande centro Quello che Renzi stesso chiama Partito della Nazione Questa struttura in cui si supera il bipolarismo, l'alternanza Invece io credo che noi abbiamo bisogno della possibilità di confrontare modelli diversi Per cui l'occasione di stasera è per discutere Altre che verranno speriamo siano ancora più concrete Quella battuta le è piaciuta se vuole rispondere? Ma sai mi pare che sia tutta parte del marketing strabordante di queste settimane I dati economici non sono buoni La situazione politica è molto fragile Stiamo facendo delle cose che non hanno alcun senso Come mettere insieme la discussione sul futuro Presidente Alla riforma della Costituzione, alla riforma elettorale Quindi come capirà insomma Io sono per una chiave molto meno frettolosa e meno asticciata della politica Più di sinistra? Beh quello non è difficilissimo diciamo Sarebbe strano il contrario